Metti il telegiornale. Va bene. Ecco fatto. Llevare alla nazione di desgastati cammini popolisti e di estancamento economico, a sendas di modernizzazione e progresso per tutti i chileni. Augusto Pinochet Ugarte, da molto piccolo, ha dato muestras di suo amore per il servizio alla patria, influendo per le storie che narrava le gesti dei padri della patria, le inflavano il suo valore e la determinazione di arraggare la carriera delle armi. Per il amanecer all'anochecer, sempre lavoravo indaginanzablemente. Llevare alla fine, l'attivazione, l'energia, l'attivazione, l'attivazione, per il sottotere, per la misura di salvare a Chile. Sì. 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 Carmen! Sì. 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 Sì.